Weila! Eccoci qua con il nostro solito aggiornamento su Bitcoin, tra l'altro siamo a fin di settimana, verso fin di settimana insomma qui sta facendo un po' di porcherie, cerchiamo di capire il perché. Allora la prima cosa che sta succedendo è che il DXY sta rimbalzando però in realtà è anche così tanto, cioè ci sta, anzi qui dopo facciamo il video inerente però sta facendo forse appartenamente il suo giornaliero inverso però quello che ha fatto Bitcoin è un po' una porcheria perché allora rivediamo anche quello che si diceva su Telegram ieri allora io da qui avevo aperto lo short, no? Perché? Perché qui è partito il nostro giornaliero, no? E qui siamo arrivati allora qui abbiamo fatto i tempi giusti per il top dell'inverso, vedete? Un giorno e quattro ore, cioè siamo perfetti qui invece partiti, boom, qui è già un giorno un'ora, vabbè dovrà scendere, un giorno tre ore, vabbè dovrà scendere cioè sì, ha teoricamente chiuso qui il giornaliero in ritardissimo e facendo praticamente un ritracciamento sì, quasi inesistente, cioè molto, insomma non mi convinceva però fatto sta che in effetti i calcoli erano giusti del tempo anche la struttura alla fine l'ha fatta giusta perché qui se non è chiuso qui, che non è chiuso qui qui è solo un ribalce, diciamo, sì, un crashettino, ribalzo, eccetera qui invece se vedete andate a prendere i cicli a tre ore adesso qui ovviamente saranno tutti un po' sfadati in realtà poi qua si sta riallineando la questione su quelli che sono messi già standard dall'inizio, quindi non ci sta che magari stia facendo una sorta di piccola anomalia però se vedete qui, più o meno sui tempistiche dei cicli a tre ore qui ha fatto uno, due, poi qui quando ha rotto, ha fatto il minimo ed è ripartito ha rotto sostanzialmente il minimo di due cicli a tre ore precedenti e quindi ti dà il segnale che sì, può essere partito qua il giornaliero ecco, in ritardo, in anticipo, quello che è quindi qui, io quando eravamo su Telegram, io qui ho detto ragazzi qui a questo punto non è andato a target perché io volevo che andassi a questo target qua qui c'è tutta un'inefficienza quindi mi è rimasto in lateralità e qui mi ha chiuso a questo punto mi ha chiuso, quindi chiudo lo short che avevo da queste parti con le briciole però vabbè, sempre un po' di guagnuccio e mi apro il long, e mi apro il long a questo punto in effetti fa quello che abbiamo immaginato e io ogni tanto dormo, cioè non è che sono vivo se sono sveglio 24-34 fa quello che abbiamo immaginato io qui ovviamente stavo dormendo non riesco a prendere nessun profitto e la posizione questa praticamente mi va sostanzialmente di stop a zero perché qui poi mi crasha la posizione qua mi va in stop a zero e qui invece la situazione della posizione che avevo long ancora qua giù dico, a questo punto io chiudo perché qui la situazione, se è questa c'è un giornaliero che si è vingolato a ribasso non c'è niente da fare sta facendo in ritardo quello che doveva fare comunque magari qua che era meglio o no peggio adesso vedremo, cioè va a chiudere l'inefficienza ritorna a quest'area di volumetrica qui e poi magari deciderà di partire vediamo se con le sequenze diciamo ci sta a parte il fatto che sì, adesso qui mi sembra che sia l'unica view possibile perché a questo punto infatti fa il rimbalzone ma non ha fatto di nuovo nuovi massimi adesso di nuovo in debolezza io ho aperto lo short ma è rischioso perché ancora non vale bene le view va bene, me lo perdo, non me lo perdo cioè non posso mettere su telegram delle view troppo pericolose poi non riuscite a gestirle, vi prendete di stop purtroppo però qui la situazione mi sembra abbastanza purtroppo per fortuna, purtroppo chiara nel senso che stiamo andando stiamo andando a chiudere questo giornaliero che non è ancora chiuso adesso io voglio vedere le sequenze di questo giornaliero, di questo settimanale perché potrebbe essere semplicemente il classico finto giornaliero ribassista del centro del settimanale che lo fa spesso se fa il due tempi quindi noi abbiamo qui sulle sequenze un po' sfasate abbiamo il primo giornaliero poi si chiude il secondo giornaliero allora facciamo così perché qui è un po' io lo tengo giusto sul settimanale che dovrebbe essere poi se non lo è, pazienza nel senso voglio tenere comunque una costanza dei giornalieri già indicata sulle teoriche partenze settimanali perché tanto poi si allineano se si sfasano per un settimanale poi si allineano quindi mi preferisco tenirli così potrei anche riaggiornare i settimanali effettivamente alle partenze settimanali come faccio con i trimestrali magari farò così effettivamente se no sono praticamente inutili questi giornalieri perché se si sfasano magari si sfasano per troppo tempo e non mi servono allora se disegni comunque qui abbiamo un primo giornaliero 1 qui abbiamo un secondo giornaliero 2 qui abbiamo il terzo giornaliero a sto punto direi qua 3 lungo e a questo è il quarto allora se fa delle sequenze pulite quarto di solito è il centro ma cosa abbiamo? noi che con bitcoin abbiamo che sostanzialmente abbiamo 10 giornalieri invece di 8 e oggi siamo a venerdì quindi se sapete cosa mi aspetto? mi aspetto una che faccia una roba del genere a sto punto che ti fa questo è il quarto no? ti fa il quarto poi ti fa fine settimana sostanzialmente ti fa nulla quinto sesto fine settimana proprio nulla cosmico totale e poi questo è il centro del nostro settimanale indice e poi però deve andare all'attacco del top dell'inverso a sorpresa e fa un pump subito in leg up veloce così e già facciamo trovare la freccia magari e facciamo il pump finale perché comunque qui è troppo presto invece per il settimanale inverso troppo presto cioè vabbè inutile che inverso il grafico però se prendiamo il settimanale inverso qua sopra è troppo presto cioè sì non infinitamente presto ma è presto cioè prendiamo proprio il settimanale perché qui abbiamo il nostro top zona di top e qui siamo troppo in anticipo tra l'altro un movimento un po' storpiello troppo storpio quindi a sto punto io mi aspetto che faccia che faccia un movimento del genere anche magari non con il secondo giornaliero cioè per dire magari vuole accelerare fa solo il quarto sto giro bisogna vedere io ad esempio se mi va il ritracciamento da queste parti l'ongolo apro per scendere e poi vediamo se mi fa il quarto o il quinto vediamo togliamo un po' di scarabocchi e ci capiamo meglio comunque sì ti sta dando fastidio sto movimento ovvio cioè non deve mai darti la vita facile perché sennò sennò farebbero i soldi tutti però però se stiamo sul pezzo anche quando fa le porcherie ce la facciamo allora qui è partito il nostro settimanale no inequivocabilmente qui facciamo il centro adesso facciamo il centro guardiamo guardiamo sotto no questo è settimanale sotto quindi facciamo anche col colore del settimanale sotto arancione qui facciamo il nostro centro quindi ti fa un giornaliero ribassista oddio cosa è inverte tutto siamo finiti poi ti parte la seconda parte la seconda parte di parte a razzo seconda onda e ti fa il top no del settimanale inverso e dopo ti scende no questa adesso bisogna vedere i target ovviamente quindi se noi invece facciamo ovviamente l'inverso possiamo anche girare il grafico che alle volte rende più chiara la situazione cosa abbiamo noi abbiamo l'inverso che è partito da qui no è partito da qui ha fatto il suo centro qui poi ha fatto il suo top al contrario ovviamente stiamo parlando nella prima parte poi è andato giù e adesso deve fare la sua ultima gambetta va bene questa è la view insomma che ho l'ultima gambettina che uno se poi va a fare le sue nomenclature della minchia poi ah questa è una lingua di buyer questo è il movimento che deve fare è un movimento che deve fare io la vedo così appunto è quando la fa questa roba perché adesso qui se questo qui è vincolato a ribasso non abbiamo neanche chiuso l'inefficienza eccetera quindi facendo le freccine che si capisce meglio io mi aspetto che a questo punto andiamo a chiudere il giornaliero qui questo potrebbe essere il mezzo settimanale di già vediamo però andiamo a chiuderlo come tempistiche che è venerdì avanzato quindi è un po' fastidiosa come cosa però vabbè e poi capito da qui si si parte velocemente per il tentativo di attacco si parte per il tentativo di attacco di double top di nuovo ci incastriamo da queste parti e sarà per il prossimo io la vedo così la situazione ci sta ci sta tutta ci sta assolutamente tutta quindi adesso comunque se abbiamo questo giornaliero vincolato a ribasso andando sul giornaliero mettendo il time frame qua qui in teoria allora non dovrebbe andare da nessuna parte perché se qui è partito giornaliero qui abbiamo fatto già il mezzo giornaliero sostanzialmente è tutto vincolato a ribasso quindi qui fa il rimbalzo della seconda parte che ti fa qui dal ti fa praticamente il top del giornaliero inverso questo ecco potremmo anche fare un'ultima un'altra legappina potrebbe farti una roba così anche l'ultima si potrebbe farti una roba così e poi va giù va giù da queste parti qui dove l'aspettavamo ieri ricarica le batterie perché è qui dove ci sono tutti i volumi deve ricaricare le batterie per fare il movimento rialzista infatti qui non ha proprio ricaricato niente era un po' un po' sospetta la cosa era un po' sospetta qui ricarica le batterie al POC di nuovo e qui l'ha rotto l'ha rotto ma praticamente non l'ha mai ritestato adesso ho fatto un piccolo retest qui però ed è stata subito una reazione fortissima tra l'altro però qui bisogna ricaricare bene bisogna ricaricare bene secondo me quindi ritorniamo qui e poi e poi qua ricarichiamo bene le batterie abbiamo fatto il retest qui tra l'altro c'è non solo la situazione di ricaricare le batterie qui tutti quelli che hanno visto che hanno rotto il pot si sono persi il movimento hanno già preso il profitto cos'è che fanno? ridifenderanno questa zona e rientreranno tutti i porti qua secondo me è la view principale quindi adesso io lo metto su Telegram però calcolate che è un po' è un po' aggressivo questo perché innanzitutto il trend io lo ritengo ancora rialzista no? cioè quindi io voglio andare giù per andare su quindi eh 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 cioè quando si shorta contro trend è più difficile in più c'è alta volatilità in più c'è anche la questione che qui il DXY fa il rimbalzo ma poi potrebbe fare poi potrebbe essere il gatto morto no adesso se questo ad esempio dal nulla ritorna giù a crashare e noi non siamo neanche ancora non abbiamo ancora fatto questo movimento magari inverte anche Bitcoin senza senza fare i movimenti che dovrebbe fare perché viene spinto in alto dal mercato va bene però io ritengo questo punto da questo punto aspetterei comunque perché adesso ho fatto già il rimbalzo ed è di nuovo qui però abbiamo detto che abbiamo la view che dovrebbe fare un top di giornaliero inverso che non c'è che ancora non c'è la vera è che qui questo è veramente lungo come tempo se si allinea con la lunghezza di questo tempo il top di giornaliero inverso finisce che te lo fa addirittura finisce che te lo fa addirittura dopo la eh sì dopo la chiusura no perché questo deve avere il top cioè quindi vediamo un attimo qui quanto tempo siamo siamo solo a metà siamo solo a metà questo è solo metà anche se è lungo quindi niente il top deve farlo magari può anche si può anche partire da qui da qui che in realtà è partito il movimento quindi qui abbiamo 13 ore da qui impettiamo 13 ore circa eh se sarebbe una roba fastidiosa perché perché adesso se deve farti sto top di settimana all'inverso significa che questo ti rimbalza ancora forte capito ti rimbalza ancora forte e ti dà l'impressione che riparta tutto tra virgolette potrebbe anche essere che parta tutto e di come sono fastidiosi no è una situazione fastidiosa adesso bisogna bisogna assolutamente stare sul pezzo queste prossime eh tre queste prossime tre ore soprattutto andiamo a vedere tipo facciamo così bisogna vedere sui sui time frame sui cicli da tre ore la situazione per forza bisogna stare sul pezzo adesso sui cicli da tre ore perché qui ho eh invertito allora invertiamo il grafico e vediamo questa 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 view allora qui sostanzialmente adesso che cosa ha fatto ha fatto contiamoli da sopra anche se non sono allineati dopo mi sa che li allineo sta roba perché se no non servono a niente abbiamo sostanzialmente allineiamoli così vediamo i tempisti che relativamente standard che ci sta partire anche da qua vediamo uno due tre quattro cinque sei che sta scendendo sette otto dovevo arrivare qui però il problema è che sta già scendendo quindi ti potrebbe anche rivincolare a ribasso la situazione e poi fare rimbalzo ma io sono già entrato short però è molto aggressivo cioè molto aggressivo molto aggressivo niente bisogna seguire ciclo a tre ore ogni ciclo a tre ore perché anche qui adesso nell'indice andiamo a chiudere ciclo a tre ore no siamo solo a un'ora questo può scendere di brutto di brutto fra due ore ci troviamo possiamo trovarci già al nostro livello fra due ore possiamo già trovarci al nostro livello e poi fare rimbalzo e poi fare l'ultimo assalto tipo una roba così ci troviamo qua al nostro livello fra due ore e allora qui ci troviamo al nostro livello fra due ore e poi fare rimbalzo per la chiusura della settimana inverso sembra che parta tutto e poi ci fa la chiusura vera male a livello inferiore come tempistiche e poi bisogna vedere se fa la struttura da 4 o da 5 però qui ho paura che arriviamo al fine settimana saranno già chiusi i mercati e quindi lateralizziamo e aspettiamo praticamente aspettiamo e poi vabbè comunque sostanzialmente la view è short questa è la view per ora è short va bene per questo video è tutto ci sentiamo alla prossima ciao ciao